L'integrazione della Lega Navale della Marina Leccese di San Foca è la prima delle 11 tappe di Navigabile 2014. Il progetto della Lega Navale, nato nel 2009, è per avvicinare un gruppo di diversamente abili al mare e alle bellezze naturali della costa salentina. 73 le imbarcazioni partecipanti, con a bordo una sessantina di escursionisti. I soci di tutte le sezioni salentine della Lega hanno messo a disposizione i natanti. Le altre tappe si svolgeranno tra Adriatico e Ionio fino al 31 agosto. In tempi non lontani non uscivano da casa, ora sono con noi.